Dio 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 Dai oh dai tiratemi dentro per favore Dai si smezza in tre 700 euro diviso tre fa 233,3 periodico Il periodico posso anche lasciarvelo Degnità Degnità Ma magari vi faccio comodo delle idee che non ve le immaginate neanche Datemi un numero di telefono, le prime tre cifre Una mail, linkedin Che poi che cazzo ha linkedin Chi cazzo lo usa linkedin Io ero disgustato dall'idea che una famiglia intera potesse essere rovinata Dalla malattia o dalla morte di un padre o di un marito Pensi non c'era alcuna tutela I lavoratori dovevano dormire in baracche che parevano canili Cavi, cavi! Esattamente, Alessandrini buongiorno Buongiorno avvocato, che fortunata coincidenza Sto indagando sul Banco Ambrosiano E avrei bisogno di lei perché alcuni elementi si collegano alla banca privata italiana Mi consideri pure a sua completa disposizione, giudice Grazie allora, arrivederla Arrivederla Io sono la voca più furba E io sono il lupo cattivo e mi mangio tutto il bosco Sento del nervosismo nelle tue parole Se permetti, qua quello nervoso dovrei essere io Pensa l'imbarazzo con i clienti Ammesso che i clienti ce la saranno ancora Sono Adele La tua Adele Sei un egoista Era molto meglio se questa cosa te la tenevi per te Così hai rovinato tutto Perché sei un genio Faber Io l'ho sempre detto, sei un geniaccio E adesso la tournée, il premio E come ci si sente ad avere tutto questo successo? Oddio, non lo chiami così? No, che poi mi tocca chiedermi se me lo merito, veramente L'hai sentita? Eh Fratelli in umiltà, eh? Oddio, fratelli, non direi Grazie mille, grazie E se non volete sbagliare, c'è la carta regalo Ikea Oh 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 Grazie mille, grazie mille, grazie mille